Ciao ragazzi, voglio fare in questo video una specie di telecronaca in diretta di un picnic di Alessandro io sono a casa, Alessandro si trova al parco, che è abbastanza vicino, in bicicletta diciamo che con 2-3 minuti lo raggiungo 4 minuti lo raggiungo e lui sta facendo il picnic oramai da un'ora con gli amici vedete il grafico piuttosto stabile, a un certo punto c'è stata l'impennata perché non l'ho beccato che aveva finito di giocare con gli amici nel paesino e gli ho offerto a tutti quanti un amaretto, però lì per lì non avevo il PDM, ho detto vabbè fino ad adesso hanno corso, adesso si ritarda ha ritardato qualche minuto perché si erano fermati a giocare ancora, io pensavo di come esce fuori dal castello insomma che si giocavano dentro il castello e gli faccio l'insulina, invece è ritardato un po' e si è impennato diciamo da 100 fino a 160 però mentre saliva, mentre saliva già stavano i preparativi del picnic, mi hanno detto che vogliono fare il picnic e allora io gli ho fatto direttamente l'insulina, quindi la discesa si è bloccata la salita perché io l'ho fatto un po' abbondante gli ho fatto l'insulina per il pranzo, mi ha fatto vedere la pizza che si era comprata, era un bel pezzo di pizza più o meno come anche di più di quella che mangia a merenda, che di solito a scuola gli faccio tipo 4 unità per un pezzo di pizza un po' più piccolo, però so che verso l'una lui ha bisogno di molto meno insulina quindi fa bisogno di insulina diciamo un 30% in meno a pranzo rispetto a colazione e allora io gli ho fatto più o meno la stessa quantità che gli avrei fatto a merenda pensando che non l'avrebbe mangiata, quindi gli ho fatto tipo 3 unità subito per quella pizza che mangiava e un'unità gliel'ho fatta in un'ora in maniera tale che secondo le previsioni mie se sarebbe sceso giù verso l'olivo, insomma verso il basso ci sarebbe andato un po' più lentamente piuttosto che darla tutta quanta insieme quindi ho fatto 3 subito e un'unità in un'ora e gli ho detto vai su, vai al parco, quando arrivi al parco cominciate piate sto pezzo di pizza in mano e cominciate a mangiare e niente, quindi Alessandro è andato su, ha cominciato a mangiare vedete che lentamente ha cominciato a scendere ora però io non l'ho mandato semplicemente con la pizza ma gli ho dato anche una bevanda era una specie di bevanda di quelle là che tipo il Gatorade che hanno per bere col tappo quello lì tipo dei ciclisti che l'ha presa lì al bar insomma allora gli ho detto, dico guarda Alessandro tu vai su e mangia se non ti va tutta la pizza, e io immaginavo che non ti sarebbe andata tutta non ti preoccupare, vorrà dire che ti chiamo io e ti dico di bere e di bere sto bevanda zuccherata, insomma che c'è i carboidrati te lo dico via telefono, quindi Alessandro sta lì io so che in pochi minuti posso raggiungerlo posso raggiungerlo perché so dove sta e l'insulina l'ho data leggermente abbondante in maniera tale che il resto del pasto perché non gli ho lasciato il PDM dietro con lui perché poi lì giocano, rischiano che si dimenticano qualcosa e quindi o si buttano per terra quindi preferisco non darglielo lo sa, con gli amichetti stanno facendo adesso sto picnic e il finale, diciamo l'aggiustamento millimetrico diciamo la parcheggiata come se fosse il parcheggiatore glielo faccio fare con una telefonata quando? Se magari si continua a scendere in base all'inclinazione, vedete siccome l'inclinazione è abbastanza morbida non ho particolare fretta questa è evidentemente l'ultima unità di insulina che l'ultima unità è stata data in un'ora quindi questo continuerà a scendere questo continuerà a scendere giù più o meno con l'inclinazione adesso è arrivata a 127 quando penso che è il momento sempre con anticipo rispetto ai 70 gli dirò se ci sarà bisogno a meno che non si ferma gli dirò bevi un po' di di sto Gatorade e magari 5 minuti dopo se vedo che scende ancora gli ritelefono e gli dico ribevi ancora un altro po' di Gatorade in maniera tale che poi in ogni caso la curva si riaddrizza ecco se scendeva molto velocemente magari già a 130 avrei già fatto la telefonata e gli dicevo vabbè intanto cominciamo con un piccolo sorso preventivo in maniera tale che la discesa si frenava e invece vedendo che la discesa così è molto morbida a questo punto io aspetto aspetta ancora che vada che vada avanti così e in questo modo do ad Alessandro nove anni il secondo anno gli è bene gli do i suoi spazi diciamo di libertà dove sperimenta a stare da solo e a forza di sentire insomma le strategie che uso io lui piano piano le assimila abbiamo fatto così anche a distanza insomma senza poter pesare il pasto anche oggi non ho potuto pesare anche senza poter pesare il pasto abbiamo fatto dei pranzi da casa degli amici sempre è raggiungibile in pochi minuti da noi però abbiamo fatto anche dei pigiama parti tutti gestiti così telefonicamente in maniera in maniera tale che io chiaro con molta attenzione quindi non è che ci dormo sopra o mi addormento però con attenzione riesco a a dare le dritte anche da fuori va bene se qualche volta un video vi è piaciuto fatelo sapere con un pollice in su o con un commento se volete altri video come questi di vita insomma di vita reale come riusciamo a gestire le varie situazioni fatecelo sapere ciao 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 ciao